L'associazione Capoverso Ollus, formata da giovani ragazzi orlandini, promuove un mercatino di compravendita di materiale scolastico usato, finalizzato alla promozione della cultura e alla tutela del diritto allo studio. Con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico, le famiglie annualmente si trovano costrette a dover spendere ingenti somme di denaro in materiale scolastico come libri, quaderni e zaini. Da qui l'associazione, fiduciosa nel fatto che tali costi possano essere abbattuti si pone da intermediario attraverso un mercatino di compravendita di materiale scolastico usato, avente come scopo la promozione della cultura, la tutela del diritto allo studio, la politica del riutilizzo e anche la salvaguardia del pianeta in termini di risorse. Ho organizzato quest'iniziativa, l'iniziativa è il mercatino dell'usato scolastico perché riteniamo che annualmente le famiglie debbano pagare ingenti somme di denaro per il corredo scolastico dei propri figli. Riteniamo che queste somme possono essere abbattute con il sacrificio di pochi ma poi il beneficio di tante. Abbiamo organizzato un mercatino dell'usato scolastico al Circo L'Aurore, per questo devo ringraziare il consigliere comunale Angela Bontempo che in qualità di presidente del circolo ci ha ospitati. Noi come capoverso facciamo da mediatori tra il venditore e l'acquirente. Sono venuti in tanti abbiamo avuto addirittura più di 150 libri e da oggi fino a domani procederemo con le vendite. Devo ringraziare anche l'assessore comunale Carmelo Galipò alle politiche giovanili poiché dall'inizio, dall'istituzione della nostra associazione è sempre stato presente e ci ha sempre dato una grande mano d'aiuto. Davvero una bella iniziativa, ce ne saranno altre in programma già? Sì sicuramente, abbiamo in mente di organizzare in collaborazione con Little Sicily due giornate 15 e il 17 e sicuramente riproporremo altre iniziative.